Buona domenica a tutti e benvenuti a una nuova analisi ciclica evoluta su Bitcoin. Da quando ho iniziato a occuparmi di Bitcoin per vedere se era possibile anticiparmi i movimenti tramite l'analisi ciclica evoluta, è passato un bel po' di tempo ormai. Lo riguardavo giusto ieri e mi sono accorto che effettivamente ho iniziato ad analizzarlo a gennaio 2018 e a fare le prime previsioni postate un po' dappertutto in modo da capire se effettivamente anche questo asset era prevedibile in termini di movimenti futuri con la ciclica evoluta stessa. All'inizio sono stato un po' preso in giro sulle cose, ma quando poi effettivamente abbiamo continuato a scendere verso i livelli che davo e a continuare la discesa nonostante tutti si aspettassero altri movimenti, perché doveva esserci Natale, la stagionalità, l'estate, tutto quello che volete, Hashrate, eccetera eccetera. Mi sono reso conto che effettivamente tutto funziona bene e non sono stato l'unico. Peraltro però, coordinando un gruppo e una community di trader che ormai sta diventando sempre più grossa, mi vengono proposte alcune riflessioni che sono molto interessanti anche per me. La prima riflessione interessante è che effettivamente, proprio partendo da prime analisi fatte, abbiamo avuto un movimento fatto da un annuale, tipico 5 inverso, annuale inverso, che parte da massimi, sviluppa minimo e poi chiude su massimi, un annuale inverso, un secondo annuale inverso, terzo, e qui siamo andati a fare il quarto, arrivando fino ai top delle scorse settimane di inizio gennaio sostanzialmente. Quindi qui abbiamo chiuso un t più 5 inverso più un t più 5 inverso che fanno un t più 6 inverso. Quindi un biennale inverso, un secondo biennale inverso, che fanno un quadriennale inverso. E dopo la chiusura di un quadriennale inverso non parte soltanto un altro annuale inverso. Quindi inquadrando anche ciò che stiamo vedendo in questo momento, bisognerebbe aspettarsi che cosa? Tra poco ve lo andrà a dire. Allora, sono andato a rivedermi, anche in questo caso, tutti gli ultimi movimenti, sta diventando sempre più difficile utilizzare questi grafici, perché con le sparate che ha fatto su nell'ultimo periodo è pura follia ritrovare una centratura decente, delle cose per far vedere i movimenti più interessanti e quelli più brevi, ma eccoci qua, non ci lamentiamo. Comunque, la mia prima domanda, dato che ragiono innanzitutto su cicli grossi, è può essersi chiuso qua a 315 barre per fare il nostro annuale ciclico? La risposta che mi darebbe la teoria è no, perché manca un tp2, ovvero un mensile, ribassista. Io posso aggiungere eventualmente sotto questo minimo del 5 di gennaio tutte le candele che voglio che ci stanno sotto e quindi sotto il minimo ha 29.936 dollari giusto per farvi capire bene, non la candela rossa ma quella verde. Però se anche le prendo tutte, prendo i minimi più importanti, io ho 23 barre sul minimo 24. È vero che qua c'è una 24esima sotto ma da origine ad un altro movimento. E queste 23 barre sono 23 barre che sto rivedendo e ho fatto notare non soltanto qui su Bitcoin ma anche su indici come il Fuzzimib, l'italiano e il DAX mensile. Questo significa che stanno provando a mischiare sempre un po' le carte in tavola e ci stanno facendo vedere delle cose che possono essere o eventi singoli che capiteranno soltanto una volta appunto in totanni oppure ci stanno facendo intravedere altre cose per cui bisogna tenere sempre conto di questo genere di cose. in questo momento ok qui non so se possiamo dire che si è chiuso appunto un annuale però teniamo d'occhio questo minimo e questo minimo e vediamo che cosa succede peraltro che cosa abbiamo fatto negli ultimi giorni da quando ho fatto un po' di giorni fa l'analisi prima di tutto corretto per oggi per ora pensare che il movimento ci avrebbe portato verso la media mobile a 50 periodi in rosso perché ci siamo arrivati ci siamo arrivati più volte peraltro ci siamo arrivati il 22 di gennaio poi ci siamo ritornati il 27 e anche il 28 quindi il target dato per la discesa era ampiamente corretto andatevi a vedere la scorsa analisi e lo vedrete successivamente che cosa è successo però con l'impatto con la media mobile dopo l'impatto abbiamo avuto una ripresa della salita e anche questo era stata data come una possibilità nella scorsa analisi ah beh proprio sì direi anche perché che cosa avevo detto che dopo un annuale un t più 5 inverso un annuale inverso possono partire due cose o un altro annuale inverso oppure quella orrenda casistica che conosciamo molto bene che possiamo riassumere con il tecnicismo lingua di Bayer ovvero finta in questo momento abbiamo 30 giorni in cui non siamo andati sopra questo massimo a 42.000 dollari interessante ok altra cosa che possiamo notare è che avevo detto che mediamente tra un t più 5 inverso e un t più 5 inverso se proprio dovessimo avere un raccordo inverso una lingua di Bayer inversa dovrebbe perlomeno durare quanto un sottociclo di 3 gradi inferiori ovvero un t più 2 ovvero un mensile inverso ovvero quello che vedete davanti ai vostri occhi 30 barre a casa mia fanno serenamente un mensile inverso quindi adesso inizia la parte più interessante dell'analisi e la parte più interessante è questa ovvero quella operativa da questo massimo a questo massimo abbiamo fatto 29 barre quindi può essersi o no chiuso il mensile inverso partito da questi massimi sceso fino al target dato e poi risalito di nuovo proprio in zona dove ho detto che poteva risalire se fosse stato un movimento dettato da un raccordo eh interessante è detto in tempi non sospetti adesso però attenzione quanto può durare un mensile inverso esattamente come un mensile ovvero tra le 24 barre minime i 24 giorni minimi i 32 medi e i 43 al massimo quindi abbiamo chiuso il nostro mensile inverso? no non lo sappiamo come lo sapremo? lo sapremo se inizieremo a spingere di nuovo verso il basso e quindi verso la media mobile a 50 periodi di nuovo e se lo faremo per lo meno per rimanendo sotto questo massimo sotto i 41.025 dollari per almeno altre 5 candele oltre a quella di oggi questa qua del 6 febbraio del 6 febbraio scusate questa qua del 7 febbraio allora da 6 giorni sotto il massimo di questa candela a 41.025 ovvero per i prossimi 6 giorni non incluso oggi ok e quindi prima di tutto se dovessi valutare che cosa fare metterei eventualmente uno short per vedere ma ripeto sto parlando di dovessi tradare in questo momento bitcoin cosa potrei pensare di fare non sto mandando nessun messaggio di acquisto vendita o che cosa sono riflessioni personali e ribadisco soltanto fatte da chi e per chi utilizza la ciclica voluta e la conosce bene chi non si astenga ok ascolti e teoria vedete poi se appunto tutto torna ma appunto a parte quello se avessi dovuto provare un'operazione avrei provato uno short da questi massimi e adesso vedrei di seguire in trailing per vedere con uno stop loss poco sopra appunto i 41.025 se effettivamente non partirà soltanto un t settimanale inverso che dovrà spingere verso il basso o se partirà anche un mensile inverso un nuovo mensile inverso dopo questo qui si potrebbe essere chiuso su questo massimo il primo mensile inverso quindi voglio vedere se ne fa un altro secondo vorrei vedere la spinta e se andremo ad impattare di nuovo prima sul livello superiore della cumo e poi sulla media mobile che cosa succede all'impatto ok anche perché non sappiamo se ha chiuso il mensile e lo sapremo molto semplicemente se dopo due candele torneremo sopra questo massimo se si tornerà dopo non dopo domani martedì sopra questo massimo il mensile non si sarà chiuso se invece scenderemo sarà partito appunto un nuovo mensile in violazione di un minimo che potrei andare a identificare nei prossimi giorni per chi mi segue che si chiama swing inverso in questo caso ovvero un minimo che mi dice sì ci può essere proseguzione verso il basso perché sta partendo effettivamente un nuovo mensile inverso ok quindi molto semplice anche se non avete tutte le competenze potete capire come effettivamente si potrebbe muovere una persona altra cosa qui siamo a 332 barre sono tante per un annuale ok siamo veramente molto vicini ai massimi assoluti perché se io 84 giorni 84 barre per un trimestrale ne ho 168 fai 170 per un semestrale e quindi ne ho qualcuna di meno di 340 per un annuale ecco qui raccordi e lingue a parte siamo a 332 quindi siamo tanto vicini a un possibile finale di annuale a meno che non si sia chiuso con una candela in meno rispetto al minimo possibile immaginabile con una chiusura soltanto data dall'analisi ciclica evoluta non dalla vecchia ciclica per cui queste sono le riflessioni con cui vi lascio questa è la centratura però è completamente corretta tutto ciò che vi è stato detto nella scorsa analisi ovvero discesa verso la media mobile in violazione di determinati minimi eccetera è corretto eventualmente se vi sto dando qualche indicazione interessante provate a imparare qualche cosina di ciclica evoluta partendo dalla ciclica base e ci sentiamo prossimamente anche su investing vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida settimana